Non sono né a favore, né contro i vaccini, sono per la libertà di scelta, l'informazione e l'educazione. Mai obbligare sentirò il mio medico di famiglia di cui mi fido da tanto tempo, lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato da Annalisa Chirico sul tema vaccino anti-Covid. Già da tempo l'ex ministro ripete che farà ciò che il medico gli dirà di fare e solo quando riceverà l'ok si metterà in fila, perché è giusto che prima vengano vaccinate le categorie più a rischio?